ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il vulcane grand prix vulcane grand prix sentite la pronuncia francofona grand prix come 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 viene fuori dolce dolce e si tratta di una collezione di orologi che è uscita da poco vulcane ci ha presentato dopo i suoi diver dopo gli svegliarini con il calibro proprietario cioè tutta una serie di cronografi monopulsante tutta una serie di orologi degni di tale nome un orologio elegante classico il grand prix esce fuori in tre configurazioni oddio le configurazioni sarebbero più di tre perché hanno una marea di centurini che possono essere montati a seconda del colore del quadrante quindi viene fuori una marea proprio veramente non si capisce forse sono anche troppe diciamo le configurazioni sono tre perché il quadrante è nero champagne dorato più che champagne e questo qua bianco bianco che ho preso io e da portare qua sul canale l'ho scelto bianco e volevo prenderlo nero ero lì ho detto lo prendo nero poi sempre gli orologi neri prendo sempre gli orologi neri ho detto lo prendo bianco voglio voglio andare oltre i miei limiti e l'ho preso bianco me l'ha messo a disposizione il buon giacomo che è titolare della gioialeria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e concessionaria del marchio vulcain quindi gli ho chiesto di metteremo a disposizione per fare una panoramica e lui gentilmente ha accettato ed eccoci qua a mostrarvelo l'ho preso perché mi piace perché ha proprio l'archetipo dell'orologio classico che piace a me poi vedrete bene nella video recensione come è fatto e perché mi piace vi ricordo che poi domenica 12 maggio a viareggio ci sarà il quinto raduno del canale il quinto watch meeting un raduno un incontro tra noi appassionati di orologi che segue il canale per adesso la gioielleria pasquale domenici di viareggio appunto nella zona pedonale antistante no ci incontreremo ci scambieremo i saluti parleremo di orologi poi possiamo entrare a provare gli orologi e poi ci saranno anche delle varie situazioni particolari che ora non so nemmeno se posso dire mi sembra di aver capito che viene anche il nostro amico Umberto Pelizzari per conto di Oris a presentare gli orologi poi ci saranno sicuramente altri marchi che vengono con una rappresentanza per mostrarvi come sono fatti come è già successo in passato insomma è un happening dove ci potremo un pochino che divertire non ci conosciamo diciamo la verità adesso prima di passare questo bello orologino qua che ho preso in prestito vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo Omega Speedmaster il Moonwatch con i suoi 42 mm di diametro cassa il quadrante nero opaco al quale io ho aggiunto il cinturino nero opaco eh sì Nabuc nero opaco realizzato dal mio amico John Kustraps che anche lui è partner del canale fa i cinturini artigianali su misura voi gli chiedete anzi a proposito ultimamente ha anche una linea di cinturini già pronti pronta consegna li realizza e poi li mette lì pronta consegna così se uno vuole quelle misure quel colore quel sono già lì chiaramente non sono personalizzabili perché sono pronta consegna va bene mando ai discorsi un pochino così mosci giriamo la camera diamo un'occhiata al Grand Prix e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze enunciando i freddi numeri diametro cassa 39 mm spessore 12.7 ingombro trasversale al polso 45.7 mm e interasseanza da 20 mm misure contenute che lo pongono tra gli orologi eleganti di concezione contemporanea distante certo dal concetto di dress watch minimalista ma pur sempre facente parte di quella categoria classica che fa della formalità e proprio modus operandi perlomeno per come viene contemplata oggi sul mio polso da 19 cm di circonferenza appare adagiarsi in maniera consona ma credo che anche sui polsi più contenuti riesca ad esprimere la propria garbata personalità magari apparendo leggermente più sportivo per quanto riguarda il design ci troviamo di fronte ad una cassa che per molti potrebbe risultare quasi banale priva di segni distintivi che la possano elevare al livello di orologio particolare ma forse è proprio questo il suo punto forte a parer mio c'è un forte bisogno di orologi semplici essenziali e privi di fronzoli spesso siamo costretti tra virgolette a cercarli nel vintage e se qualche casa riesce a colmare questa lacuna ben venga almeno per quanto concerne i miei gusti anse sinuose che fuoriescono dal corpo cassa in maniera proporzionata lato carrier sottile che forma un arco tendente verso il basso e lunetta inclinata che va ad occupare tutta la larghezza del sottostante il tutto rifinito con una lucidatura a specchio che non lascia spazio né a satinature diversive né a biselli di separazione come si vede è tutto molto semplice ed essenziale non vi sono dettagli che cercano di spostare l'attenzione altrove il grand prix è questo un orologio classico detto ciò è forse il vetro zaffero a distinguersi per personalità un boxed shape che si eleva incisivamente dalla lunetta per poi curvarsi leggermente ai bordi e proseguire quasi piatto verso il centro un chiaro tributo ai trasparenti in plexiglass degli anni 60 così come lo è la corona di carica pressione che gode di una eccellente manovrabilità e che riesce a garantire una impermeabilità dichiarata di 50 metri sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane una nota margine non è presente il fastidioso scatto fantasma che a volte troviamo sugli orologi privi di datario in questo caso è stato scelto il calibro corretto ossia un landeron l24 movimento realizzato dalla omonima casa svizzera e che risulta essere una buona e conveniente alternativa ai più noti calibri di fornitura presenta la stessa architettura di un eta 28 24 e può essere considerato quindi a tutti gli effetti uno dei suoi cloni anche per ingombro esterno occorre infine aggiungere che fa parte della basica linea economica offerta da landeron azienda che con le più recenti introduzioni ha dimostrato di saper realizzare calibri di pregio non è possibile osservarlo in quanto l'orologio è dotato di un robusto fondello a vite in acciaio pieno soluzione apprezzabile che si rifà lo spirito privo di fronzo licitato in precedenza vi compare un basso rilievo a fondo sabbiato riportante in bella mostra il logo vulcain ma è il momento di osservare il volto dell'orologio e cercare di capire se anche qui si è puntato al minimalismo il colpo d'occhio ci restituisce una simmetria equilibrata che è frutto dell'assenza del datario e del posizionamento speculare degli indici sul rio applicati in rilievo appaiono come delle semplici strisce metalliche a bordo tondeggiante con quelli posti ai quarti che risultano doppiati giusto per facilitare l'orientamento generale occorre poi anche menzionare il fatto che le poche diciture vengono stampate lungo l'asse verticale a conferma del voler conferire al quadrante un aspetto simmetrico e facilmente fruibile sulla falsa riga di quanto sopra anche le sfere a bastone appaiono semplici quasi stilizzate delle sottilissime presenze che mirano a non voler essere troppo invadenti l'unico punto per così dire di fresca allegria è dato dal fondo quadrante una finitura soleil che riesce a regalare qualche sprazzo di vivacità nel momento in cui i riflessi della luce colpiscono i solchi radiali del dial ho scelto il colore argento solitamente meno leggibile delle varie alternative devo dire che in questo caso si riesce a raggiungere la sufficienza è possibile comprendere l'orario piuttosto facilmente certo non c'è quel forte contrasto che al colpo d'occhio ti fa capire subito ma per essere un quadrante chiaro direi che è promosso leggibilità che chiaramente scompare al buio non gli è neppure richiesto un orologio classico che non cede al super luminova e si mantiene austero un eccesso di sportività lo avrebbe snaturato se volete guardarmi accendete la luce sembra volerci dire per quanto riguarda il cinturino ci troviamo di fronte a varie opzioni in quanto di base è possibile configurarlo con differenti tipologie quello mio possesso presenta un pelle grigio marrone senza imbottitura molto sottile e morbido cerca di replicare lo stile vintage e ci riesce forse anche troppo la qualità è buona ma non eccellente la sensazione che si possa usurare precocemente di buono a che si avvolge al polso in maniera ergonomica ma la sensazione è quella di qualità migliorabile il lato positivo è che essendo presente lo sgancio rapido è possibile giocare con i cinturini a piacimento tanto più che il passo da 20 è uno dei più comuni possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali allora cosa dire di questo simpatico orologino che è promosso lo diciamo tanto tanto li promuovo sempre io gli orologi se no non li sceglierei no a volte ho anche bocciato non rimandato qualche orologio che ho scelto poi alla prova del 9 l'ho anche rimandato comunque questo qua è promosso perché proprio rientra completamente nei miei gusti l'orologio classico con la cassa lucida classica per eccellenza è anche ben leggibile cioè io ho detto che è sufficiente ma in realtà è veramente ben leggibile perché le sfere sono a contrasto dai si legge anche bene i punti deboli quali possono essere il cinturino l'ho detto a me non è che mi sembra tanto lo noto soprattutto dei passanti che mi sembrano un pochino plasticosi avete presente quando li toccate sono elastici questo vi dà l'idea di un po di chip no così come lo spessore che però vuole emulare quelli vintage che noi prendiamo sulle bancarelle quindi la sottigliezza c'è poi ci sono anche altre configurazioni di cinturino come dicevo gli altri non lo so ci sono anche ho visto certi che hanno un pattern tipo tecnico ma ci potrebbe stare anche bene ci sono quelli di classico codrillo in ogni caso l'ho detto c'è lo sgancio rapido lo cambiate e vi divertite come volete poi altri punti deboli non ne ho trovati l'unica cosa che magari è da rimarcare che è il calibro che è il landeron 24 che non niente niente da dire sul landeron però è sicuramente più economico degli altri calibri di fornitura tipo il sellite sv200 eletta 28 24 no anche perché produce in un basso quantitativo landeron per dire non una piccola realtà è anche più economico e quindi il discorso è il vulcan autica in casa il 28 24 e costa leggerissimamente di più di questo se non uguale perché su quello c'è il 28 24 qua il landeron 24 non lo so poco male diciamo perché veramente questo qua può essere considerato l'orologio entry level della a questo punto della collezione di di vulcan è quello che costa di meno non è più brutto è che forse anche uno dei più carini a me piace e quindi è giustificato magari il fatto di avere un calibro più economico non meno performante perché sicuramente funziona fa il suo come si suol dire però sicuramente più economico va bene dire mi sono anche ripetuto anche troppo l'orologio in questione per me è promosso soprattutto anche in virtù del fatto che non sono tanti gli orologi eleganti così classici da 39 mm da poter indossare anche senza data senza ne ho visti pochi insomma è il quasi dress watch perfetto per dress watch noi tendiamo uno da 36 37 no senza lancetta dei secondi in questo caso è proprio l'orologio classico un dress watch contemporaneo per come lo intendiamo noi dai diciamo così ultima nota il fondello chiuso che fa il suo fa sempre il suo anzi che vedere quel fondello trasparente con il calibrino dentro che si muove in un orologio di se fatta fattura è bene che sia ma vulcan li fa spesso i fondelli chiusi su qualche cricket li ho visti aperti mi ricordo che guardavo il calibro dello svegliarino da dietro però per la maggior parte sono chiusi anche il nautica è chiuso no va bene dai ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto e non è che possiamo stare qui a smacchiare i jaguari all'infinito quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto l'orologio e il video e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube laugh